Una nuova figura nel panorama istituzionale, un coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. La prima sarà una coordinatrice, Milena Santerini, lo ha annunciato il presidente Giuseppe Conte e domani ci sarà la nomina in Consiglio dei Ministri. Molto sul piano culturale ed educativo, io sono una pedagogista che naturalmente dovremo muoverci perché si tratta di rivedere tanti aspetti, dalla formazione degli insegnanti alla trasmissione della memoria della Shoan, le società che utilizzano un linguaggio ostile. Le società divise, dove si crea il nemico, per esempio negli immigrati, il bersaglio, il capo espiatorio sono situazioni in cui è più facile che si creano tanti tipi di discriminazione e si rispolverino anche quelle del passato, quindi non si può distinguere antisemitismo da razzismo. Nata a Roma nel 1953, ma milanese d'adozione, Milena Santerini è docente di pedagogia all'Università Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah e componente del Consiglio Didattico Nazionale del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Fa parte della comunità di Sant'Egidio e nella scorsa legislatura è stata eletta in Parlamento nelle liste di scelta civica con la lista Demos Centro Democratico. Il modo da coordinare appunto le strategie contro un fenomeno che purtroppo in Italia è effettivamente in aumento, nell'ultimo anno 250 atti segnalati e meno di 200 l'anno scorso, beh, qualche cosa significa. Io credo che i cattolici abbiano fatto, i cristiani in generale, abbiano fatto un grandissimo cammino. Ricordiamo che veniamo da una storia di antigiutaismo cristiano, terribile, che però abbiamo riscattato dopo il concilio, io credo. Ecco, è bene che in fondo sia una cattolica a dire che appunto l'antisemitismo deve essere vinto una volta per sempre, anche se naturalmente sarà un cammino molto, molto lungo.